Se in superficie restano sopite le velleità sulle prossime regionali, dietro le quinte già si lavora le candidature. In città i blocchi politici, sia a destra che a sinistra, vivono un delicatissimo momento storico. La situazione del centro-destra resta fortemente caratterizzata dalle vicende giudiziarie di Frank Antonio Genovese. Il centro-sinistra, in piena fase di ricostruzione, soffre ancora per le divisioni tra le correnti interne. Intanto, dopo la polemica sulle missioni sindacali, l'ex sindaco Peppino Buzanca è tornato a parlare di vicende politiche cittadine. L'ex primo cittadino ultimamente non ha negato la voglia di continuare a fare politica, anche se non in prima persona, e ultimamente si alimentano le voci di una sua possibile candidatura alle prossime regionali, visti anche i buoni rapporti con il presidente dell'ARS, Giovanni Ardizzone. Sul versante del centro-sinistra invece Pippo Laccoto punta una poltrona romana, mentre Filippo Panarello è ormai al terzo mandato all'ARS. Intanto si fanno sempre più strada all'interno del PD, Giuseppe Antoce e Tommaso Curro, e in città sia i Renziani che il gruppo di Formista, da tempo hanno già qualche nome in mente per le prossime regionali, pescato tra i delusi delle ultime amministrative.